Studenti dell'Università Caffoscari di Venezia ha lezione in una banca di credito cooperativo per scoprire come una BCC abbia l'obbligo di predisporre non uno, bensì due bilanci e per capire a fondo come il secondo bilancio, quello che si occupa della parte sociale e l'impegno della banca nel territorio costituisca una parte importantissima, fondamentale. Succede nella provincia vicentina, a San Giorgio di Perlena, dove 25 giovani laureandi in Economia e Finanza a Legislazione Bancaria hanno potuto approfondire temi legati alla finanza, ma in chiave BCC. Perché l'Università Caffoscari ha scelto una BCC? C'è un legame storico tra l'Università Caffoscari e il mondo del credito cooperativo. Sono molte le iniziative che ci vedono in compartecipazione e in particolare credo che meriti di essere ricordata una convenzione che la nostra Università ha da anni con la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo che consente ai nostri studenti di confrontarsi con gli esponenti del credito cooperativo, ma al tempo stesso ai dipendenti delle BCC di partecipare alle varie iniziative formative della nostra Università. Curiosità e molte domande per capire a fondo la matrice storica e il modo di operare oggi delle banche di credito cooperativo, a colloquio in modalità peer-to-peer con i dirigenti e i responsabili di servizio di Banca San Giorgio V Valleagno. Perché oltre ai numeri, agli indici di solidità, ai margini di ricavo e di interesse, per fare utile in una BCC servono valori di fondo. Cosa hanno bisogno di sapere, di conoscere questi universitari che oggi visitano Banca San Giorgio V Valleagno? Secondo me la loro esigenza più grande è quella di passare dalla teoria e ho verificato anche oggi che loro sono veramente bravi, preparati alla pratica. Oggi vedono la banca online, vedono internet, vedono questi competitor importanti che stanno entrando come Amazon, come Facebook. Quindi per loro è importante questo tipo di incontro come abbiamo fatto oggi, proprio per rendersi conto che al di fuori di queste realtà molto pubblicizzate, ma però anche un po' fredde e assettiche, esiste un mondo, quello dei BCC, dove il calore e la relazione sono ancora vincenti rispetto a un freddo computer. Etica, supporto all'economia locale, alle comunità, relazione, sostenibilità sono concetti chiave che spesso i cittadini e ancor più i giovani non hanno potuto conoscere all'interno di una banca tradizionale e le sorprese e le rivelazioni alla fine non mancano. Quali sono i temi che oggi ti hanno interessato di più? Allora, i temi che più mi hanno interessato sono stati quelli che riguardavano la disciplina del credito, in quanto un giorno a me piacerebbe moltissimo occuparmi dei grandi fidi. Poi mi è piaciuto anche parlare del piano strategico che deve avere una banca, in particolar modo quello di una BCC, in quanto essendo anche una banca più piccola riesce ad avere comunque degli obiettivi, delle mission più vicine a quelli della gente e non a quelli magari più portati all'utile. Secondo me comprendere che in realtà la dinamica delle banche e la dinamica della finanza può interessare anche l'economia reale è particolarmente importante per poter aiutare appunto gli sviluppi dell'economia reale. Abbiamo scoperto che una banca di credito cooperativo ha una vicinanza al territorio che non mi aspettavo avesse e quindi questo mi ha sicuramente colpito e in particolare credo sì che sia bello che ci sia comunque una visione anche verso la popolazione. Come vede la banca del futuro? Allora c'è un grande punto interrogativo al momento secondo me nella testa di molti giovani per quanto riguarda la banca del futuro. Senza dubbio la banca via internet sta portando molte novità, molta innovazione, dobbiamo abituarci a essere molto flessibili ai cambiamenti e la banca del futuro si deve perciò adeguare a questi che sono i cambiamenti. Secondo me le banche che effettivamente avranno una prospettiva di crescere e di continuare ad esistere in futuro sono quelle che riusciranno a stare al passo con tutte le innovazioni, con tutti i cambiamenti che stanno avvenendo a livello globale. Ma il cliente entra ancora in banca? Ora con la diffusione della banca online magari può essere che sia diminuito però per esempio per alcuni servizi come i servizi di consulenza anche oggi abbiamo appreso che quando il cliente vuole investire il proprio denaro il rapporto frontale è determinante, è fondamentale.